1. Dammi sette o otto caramelle. 2. Il padre e il figlio sono andati al concerto. 3. Cammina ma non corre. 4. Mangio pesce ma non mangio carne. 5. Se vuoi vado. 6. Voglio andare ma non posso. 7. Ti piaccio o non ti piaccio? 8. Sono felice perché vado in viaggio. 9. Parlo italiano e coreano. 10. Sono arrabbiato perché lei ha urlato. 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 11. Sono arrabbiato perché lei ha urlato.